Franco Ferrari allora è arrivata la prima vittoria di campionato, si pensa già alla gara di Carrara, subito un'importante verifica per il Pescara. Sì, ti dico, siamo contenti perché quel mesetto che abbiamo lavorato, in campo si ha visto quello che stavamo preparando, ci manca ancora tanto ma abbiamo fatto una bella figura come prima partita. Si è arrivato molto vicino al primo gol in maglia bianca-azzura la prima giornata di campionato. Lo so, purtroppo mi hanno appena respinto, toccato dietro, però speriamo che arriva presto. Sarà una cosa bella. Si è chiuso il mercato e sono arrivati altri attaccanti, ora c'è grande concorrenza nel reparto avanzato, siete preoccupati voi che sareste i titolari di questa squadra? No, è bello quando c'è la concorrenza perché penso che si è visto anche nella partita che quelli che sono entrati dalla panchina hanno dato la stessa voglia di quelli che erano in campo. Dico una cosa bella, meglio per noi perché sono tanti giocatori così forti, è una cosa bella, non c'è tanti ricambi. 3-4-3, questo è il modulo di Auteri, come ti trovi con questo modulo? Bene, molto bene, mi piace giocare così, belli attaccanti, belli pressando alto, quindi una cosa bella, mi piace questa mentalità. Nelle gerarchie di mercato, Franco Ferrari è la punta titolare del Pescara? No, quello sta a dirlo al mister, io ti dico se mi tocca giocare a titolare come l'altro giorno penso che ci metto sempre la disposizione e la stessa voglia di entrambi le parti, non so se esiste così. Torniamo al campionato, questa gara con la Carrarese, una gara assolutamente da non sottovalutare. Carrarese che non è più la squadra delle passate stagioni ma che è sempre formazione ostica. No, certo, certo, poi c'è sempre quella formazione che anche come dice lei cambiano giocatori ma c'hanno quella mentalità, quindi dobbiamo fare un'altra gara diciamo importante così continuiamo con questo piede giusto. Dal mercato è uscito un Pescara, nomi alla mano, ulteriormente rinforzato, questo vi responsabilizza ancora di più, l'obiettivo deve essere quello di provare a vincere questo campionato. E' normale, sappiamo in che piazza siamo, è una piazza importantissima, quindi sappiamo il nostro dovere e cosa dobbiamo fare, speriamo che concludere come ha detto lei, no? A proposito della piazza, come ti trovi a Pescara, che città hai trovato? Molto molto bene, io quando c'è il mare, anche conoscevo già la piazza da tanto, i miei amici pure in Argentina la conoscevano di qua, però ti dico molto contento per la piazza, per la città anche, molto bella. Sì, sudamericano, arrivi in un ambiente molto caldo, dove c'è da trascinare questa tifoseria di nuovo allo Stadio Triatico? Eh, speriamo, speriamo di dare quella carica in più, anche perché, come si dice sempre, se il stadio è pieno è una cosa, diciamo, un giocatore in più per i giocatori, no? Anche quando scendi in campo e vedi la gente che ti spinge, anche quando perdi o le cose fanno male, è una cosa in più per i ragazzi, diciamo. Franco Ferrari, soprannome Loco, come mai questo soprannome? Eh, ve lo chiedono in tanti, non so come risponditi, lo vedrete piano piano, come dico sempre, ormai i ragazzi già mi conoscono, ma sono più tranquillo degli anni prima, per fortuna. Prenoti il primo gol a Carrara? Eh, speriamo, speriamo, magari, magari, se fosse permesso dire di sì, però speriamo, speriamo, sarebbe una bella cosa.